Il Laboratorio di Meccanica Clementoni è il tuo nuovo cantiere di idee e divertimento. Con gru e mezzi elevatori, oltre 250 componenti per creare i tuoi progetti e un'app per metterli subito alla prova. E se accendi i motori dei mezzi di soccorso, metti in salvo il divertimento e spazi via la noia. Scienza e gioco tecnologica è solo Clementoni, il numero uno dei giochi educativi.